Al mio tre farò una imitazione spartana breve ma auspico efficace di Richard Benson. Uno, due, tre. Sono Richard Benson. Spero che qualcuno si ricorderà di me. Sono stato una delle leggende della musica rock per eccellenza e auspico che qualcuno vorrà partecipare ad uno dei miei prossimi raduni. Ci tengo a specificare che voglio soldi perché sono in condizione economica negativa. Mi auguro che qualcuno si prenderà cura di me e di tutto quello che ho fatto per la musica. Spero vivamente che qualcuno vorrà darmi una mano a continuare a offrire musica odierna, contemporanea, sapendo che il mio impegno non finirà qui. Sono gravemente malato, vado avanti a fatica e, per colpa del coronavirus, me ne resto a casa. Non voglio aggiungere altro perché non sono nella condizione per farlo. Per tutto il resto, vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Ciao dal vostro Richard Benson. Ecco, spero di avervi fatto una imitazione corretta di Richard Benson. Non è facile. Ho cercato di imprimere il personaggio, ho cercato di offrirlo attraverso anche una efficace imitazione che ho fatto ora e spero che vi sia piaciuta. Grazie a tutti. Il video termina qua. Iscrivetevi se vi va, commentate. Un saluto caro e mettete il mi piace, un like, un mi piace, ripeto. E condividete questo video che magari spero arriverà lontano. Ciao da Leandro, conoscitore italiano. Ciao da Leandro.